A 15 anni di distanza torna il derby d'Abruzzo tra Teramo e Giulianova. Al Gaetano Bonolis si gioca davanti al pubblico delle grandi occasioni, polverizzati tutti dagli anni messi a disposizione, oltre 5.000 alle presenze totali, 800 circa nel settore ospiti per una sfida che potrebbe già essere importante per il proseguo del campionato di eccellenza. Il Giulianova vuole tornare alla vittoria dopo il mezzo passo falso del Fadini contro la Vastese. Il Teramo invece vuole fare la voce grossa per stabilire le gerarchie e provare la prima fuga stagionale. Tutti a disposizione per Marco Pomante, Cerasi invece deve rinunciare a Fermo e Barlafante per squalifica e a Giglio e Federico Di Paolo causa infortunio. Recuperato invece Marchionni, ma solo per la panchina. Fischietto affidato al Bergamasco Giorgio Brozzoni. Con le immagini di mano il centurame passiamo alla cronaca del match. Migliore è l'approccio giallorosso che riesce a costruire utilizzando entrambe le fasce. Al terzo Piccioni pennella per l'incornata di Cognigni, che non riesce a dare forza e precisione. Precisione che manca anche poco più tardi, prima nella punizione calciata da Zanon e poi sull'incursione di Cognigni. Negro blocca senza problemi. Al quarto d'ora primo timido segnale da parte dei Biancorossi, ma Degito dalla distanza non è preciso. Non passa nemmeno un minuto e il Giulianova trova il vantaggio. Cognigni lavora benissimo all'interno dell'area, si gira e batte Negro, facendo esplodere tutto il settore ospiti. Qualche screzio per la presenza di alcuni tifosi giuliesi in tribuna centrale, ma il tutto è rientrato senza particolari problemi. Il Teramo prova a prendere in mano la gara, ma la reazione nel primo tempo è riassunta in un colpo di testa senza pretese di Dos Santos, dopo l'ottima discesa di San Severino sulla sinistra e una conclusione poco prima dell'intervallo, sempre del brasiliano. Nel frattempo la tensione sale anche in campo e gli animi si scaldano, a farne le spese e cerasi dopo un fallo in ripartenza e danni di Dos Santos. La ripresa si apre con l'immediato pari bianco-rosso. De Giglio sulla sinistra confeziona per l'inserimento puntuale di Esposito, che al volo trova la zampata vincente, facendo impazzire il Bonolis. Il Teramo preme, al settimo Dos Santos cicca un rigore in movimento e un minuto più tardi la conclusione di Ferraioli trova la risposta di Boccanera che blocca facilmente. Al diciassettesimo arriva il nuovo vantaggio giallorosso, che sembra incanalare la gara. Francesco Di Paolo, appena entrato, si incarica dell'abbastuta di un calcio di punizione dal limite dell'area e punisce Negro con una parabola perfetta a scavalcare la barriera. Dopo appena sette minuti il Teramo ristabilisce la parità. Azione manovrata da Tourè, che serve ad Egidio sulla destra. Il numero dieci si prepara alla conclusione e scarica un bolide sotto la traversa, imparabile per Boccanera. Alla mezz'ora da segnalare le proteste ospiti per un contatto in area di rigore. Finisce a terra con Gigni nel tentativo di raccogliere un cross dalla sinistra di Massetti. Per Brozzoni non c'è nulla. Al trentacinquesimo Mastrilli cambia gioco e trova Di Paolo, che punta un avversario e conclude. Sulla respinta di Negro il pallone finisce sui piedi di Piccioni, che manda alto. Nel finale il Teramo fallisce il match point. Cambio gioco perfetto di Cutiglia, cercare Massarotti. Il classe 2002 appoggia per Tourè, che arriva a rimorchio ma si divora clamorosamente il 3-2 a tu per tu con Boccanera. Nei cinque minuti di recupero non succede più nulla. Termina 2-2 la partita tra Teramo e Giulianova, che conclude una bellissima giornata di sport al Bonolis. Qualche tensione come preventivabile, ma nulla in particolare da segnalare in termini di ordine pubblico. Il Teramo comunque resta in vetta, due lunghezze di distanza dei giallorossi. Sì, sì, bravissimi a recuperare il risultato. Qui abbia dimostrato sinceramente una forza mentale importante, perché questa non era una partita facile, era una partita facile da recuperare. Per il tempo abbiamo sofferto i primi 20 minuti, perché non ci aspettavamo il loro cambio di modulo. Di fronte abbiamo una squadra forte, che giocava a calcio. Poi abbiamo trovato un po' le misure, soprattutto nel secondo tempo, quando poi si sono messi con 1-2, con Stefano, dei giro a tre quarti. Abbiamo poi messo a posto la situazione, sia in fase di un possesso, ma soprattutto in fase di possesso, perché poi avevamo più giocatori lì davanti. Soprattutto non davamo riferimento ai due difensori centrali, che sono due difensori centrali di categoria superiore. Però la cosa che mi piace di più è stata la reazione, perché soprattutto su gol del 2-1 loro, dove nel secondo tempo loro non hanno fatto nulla, hanno fatto solo quella punizione. Un'altra squadra a livello mentale crollava, prendeva il 3-1 e il 4-1. Invece noi abbiamo recuperato e, come avete detto voi, abbiamo rischiato di vincere. Il rammarico è quello, però se non è il pari è giusto. Ci sta perché oggi sono affrontato due squadre forti, due squadre forti che meritano di stare lassù. E soprattutto una tifoseria, delle tifoserie così. Io questo derby l'ho giocato e vi dico la sincerità, preparare questa partita non è stato facile, ma penso da parte di tutti. Penso da parte anche del mistero Giulianova, da parte delle società, perché dopo 15 anni c'è stata un'atmosfera un po' pesante. C'era tensione da parte tutta e anche da parte dei tifosi. Perché questo, come ho detto prima, l'ho giocato e viverlo da allenatore, ma viverlo dopo 15 anni è stata un'atmosfera stupenda. Penso che queste tifoserie meritano categorie superiori. Ma è normale che queste sono state fatte scelte, da parte mia e da parte di Cerasi. Giulianova ha deciso di fare una rosa importante con i giocatori importanti. Noi siamo andati più sull'idea di allenatore, abbiamo cercato giocatori adatti a questo modo di giocare. Poi io, sinceramente, se la squadra sta facendo bene, soprattutto nel secondo tempo, a me non piace cambiare. Perché devo fare i cambi? Giusto per farli. Io cambio se le cose stanno andando male, come ho fatto due settimane fa con Ray o con un altro giocatore. Se le cose stanno andando bene, è giusto che io non devo cambiare, come è stato nel secondo tempo. Penso che nel secondo tempo ho dovuto fare i cambi perché ho tolto Sanseverino e perché aveva i crampi. Perché se no non lo toglierevo mai, perché sta facendo differenza. E ho tolto Degidio perché Stefano veniva da tre partite, avevamo fatto 90 minuti. Giustamente non ce la facevo più, ho messo un giocatore qua al mercato che ci dà più brillantezza. Sì, 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 però sono contento che abbiamo reagito alla grande. Guarda, non era facile. Non era facile perché soprattutto il gol del 2-1 loro, dove tu stavi giocando benissimo, stavi creando tante occasioni per fare il 2-1-2 e loro la prima occasione, la prima volta che sono arrivati vicino alla nostra porta ci hanno fatto con la punizione. E lì c'è stata una reazione da grande squadra. La grande squadra, non ci dimentichiamo che noi togliendo Pepe e Sposo e Dossi, poi abbiamo tutti 23 anni, 24 anni, 25 anni, quindi una squadra giovane che in queste partite, con questa atmosfera, possono crollare mentalmente. Invece oggi mi hanno stupito, hanno dimostrato un grosso carattere e sinceramente sono molto positivo per il futuro. Oggi è stata una partita, diciamo, spettacolare. Io non me l'aspettavo così, però sono contento, sono contento del risultato, sono contento per l'atmosfera che c'era intorno a noi, perché c'era un'atmosfera, come ho detto prima, di altre categorie. Importante alla fine che è stata una bellissima giornata di sport. Alla fine siamo contenti tutti e due, noi forse un po' di più perché andiamo a vedere la classifica, uno dice non la guarda, la guardiamo tutti. Giustamente siamo ancora lì davanti e oggi era importante tenere la prima posizione. I primi 20 minuti, però, i primi 20 minuti, secondo me, è vero, ma non ho fatto addosso, no, 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 eravamo bloccati mentalmente. Però di là c'erano giocatori come un certo Damiano Zanon, che penso che ne avrà fatte 300 di queste partite, e a livello mentale era un giocatore che era abituato a queste partite. Ve l'ho detto prima, noi siamo una squadra giovane che vive sulle ali dell'entusiasmo. Giustamente l'importante era partire bene, non l'abbiamo fatto, però io mi prendo la grossa reazione. La grossa reazione è perché il Giuliano è una squadra forte, oggi l'ha dimostrato, ma abbiamo dimostrato anche noi di poterci giocare alla pari. Ma adesso in conto a Giuliano per me è la squadra più forte che si è incontrata fino ad adesso. È normale, da quello che mi dicono, c'è anche l'angolana che è una squadra forte, lo stesso sul Monaco, l'angolana domenica è una squadra forte. Non ci siamo solo noi, non ci siamo solo noi. Dobbiamo portare rispetto anche alle altre perché questa è una categoria difficile, dove nessun risultato è scontato. Se vediamo la Flacco Porto, prima di giocare con noi avevano i punti, prima con noi. poi ha perso le ultime due partite. Quindi noi dobbiamo pensare al nostro percorso, consapevoli che siamo una squadra forte. Dosandos gli ultimi dieci minuti ha rischiato di fare due gol. È normale che veniva da due partite dove ha giocato 90 minuti. Non ci dimentichiamo che c'è stato un turno di forza importante, però dal punto di vista offensivo io sono contento perché soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Abbiamo creato tanto e forse vedendo gli ultimi cittadini meritiamo di vincere, però è anche giusto così, anche il pareggio. Io ho visto una partita aperta, una partita che è bella, per questo tipo di campionato bella. Noi sicuramente non siamo venuti qua per fare il secondo tempo con la pressione che ha messo il Teramo per tirarci indietro. Abbiamo cercato di fare la partita sia il primo che il secondo tempo. Sicuramente nel corso della partita il secondo tempo ci hanno un pochettino più aggredito, però io penso che passare in vantaggio in questo stadio due volte non sia neanche così tanto negativo. Però se la valuta un tempo per ciascuno io dico che sia stata una bella partita sia il primo che il secondo tempo da ambo le parti. Io penso che il risultato tutto sommato sia giusto, cioè obiettivamente sia giusto. Ho visto una grande squadra che non la scopro io il Teramo, è una bellissima squadra che ha le idee chiare secondo me su quello che vuole fare in mezzo al campo, quindi è una conferma di quello che io prevedevo. E' normale che il mio rammarico è che se Bittai manteneva un pochettino la condizione in quel ruolo la metteva in difficoltà il Teramo. Noi dimentichiamo, magari gli addetti lavori dimentica che non siamo tutti quanti al 100%, che purtroppo Bittai viene da un'infortunia all'occhio che non gli ha permesso la passata stagione tre mesi di fine campionato e non ha fatto la preparazione. Questo è l'unico rammarico che ho in quel ruolo, in quel momento, questo tipo di giocatore. Però tutto sommato gli rispondo definitivamente due a due giusto. In sbalti vi dico subito che è un'emozione pure per me vivere uno stadio del genere perché è stato veramente stupendo. Io sono di parte, per me la curva giugliese è qualcosa che ti emoziona, però complessivamente è uno stadio di altre categorie. Io penso che entrambi, ma ti rispondo per quanto mi riguarda, penso che c'è da lottare su ogni situazione di campo, su ogni partita, perché il campionato dell'eccellenza, io è il terzo anno che lo faccio, ho vinto gli scontri diretti ma non ho vinto il campionato, quindi bisogna stare attenti a questo tipo di valutazione perché ci sono squadre attrezzate. Secondo me sì, secondo me sì, anche perché studiando un attimo la squadra del Teramo ho pensato di fare questo tipo di... abbiamo giocatori presi in un modo di proposito per essere utili, quindi niente di strano, insomma, nel calcio esiste pure praticamente una cosa normale, insomma. Io quello che vi posso dire è che dall'esperienza che ho fatto in questi due anni ho bisogno per provare a vincere questo campionato, ho bisogno di 18-20 giocatori, perché altrimenti è difficile, arriveranno come già c'è successo, ma penso che in ogni squadra arriverà un tempo delle squalifiche, un tempo degli infortuni, quindi bisogna sopperire a tutto. Pure oggi uno non lo ridice, non lo ridice perché non lo deve ridire, ma noi abbiamo quattro giocatori fondamentali fuori. Chi è entrato, secondo me, ha fatto la differenza, a mio giudizio, poi quasi che mi sbaglio, però vedo questo. Per come sono venuto, per come siamo venuti, non tanto, perché io per natura vorrei sempre vincere, quindi è quello che trasmetto alla squadra, è questa cosa qua. È normale che... siamo a Teramo, è una piazza importante, è uno stadio importante, è una squadra importante, quindi è normale che torno a casa con il soddisfatto di questo pareggio, però che mi accontenta definitivamente no. Beh, diciamo che una cornice di pubblico così importante in questa categoria credo che si vede poco. È stata, penso, una bellissima partita, dove il Giulianova è partito meglio di noi, però siamo stati bravi a tenere a galla il risultato e riacciuffarla prima con un mio gol e abbiamo avuto subito anche un'altra occasione importante, prima della rete del 2-1 Giuliesi. E poi ovviamente abbiamo avuto una reazione molto, molto importante perché potremmo, oltre che abbiamo pareggiato, potremmo anche trovare il gol del 3-2 con Touré, però penso che siamo soddisfatti della prestazione di oggi. Il livello, sapevamo che il Giulianova a livello di palleggio è una squadra forte, quindi diciamo che dal punto di vista tattico potevamo fare qualcosina di meglio, ma ripeto, siamo stati bravi a metterci meglio poi in campo e penso che la reazione di squadra sia vista. Ma, ripeto, è stata una questione tattica dove potevamo lavorare meglio lì a centrocampo, ma io penso che non ci sono state grandi occasioni da parte del Giulianova. Le occasioni più nitide ce le abbiamo avute noi, giocavamo in casa e, ripeto, il rammarico è non aver sfruttato quelle occasioni importanti, ma credo che il risultato sia giusto il pareggio. Se uno analizza tutti i 90 minuti penso che sia giusto il pari, però se uno analizza le occasioni sciupate abbiamo avuto più occasioni noi, credo, nitide. Però è stata una partita equilibrata e credo che il pari sia giusto. È stata un'emozione indescrivibile perché la curva del Teramo ci ha sostenuto dal primo al novantesimo, come è giusto che sia, in un dermico così infuocato. È stata una bella emozione. Sicuramente è stata un'emozione forte che aspettavo da tanto, soprattutto di giocare questa partita, quindi segnare sotto la curva dei nostri tifosi è stata un'emozione indescrivibile. Peccato per non essere riusciti a mantenere il vantaggio, però penso che abbiamo fatto una grande partita come il Teramo, due squadre forti, quindi siamo contenti così. Sì, come ho detto, sicuramente eravamo in vantaggio per due volte, potevamo gestirla forse meglio, però come ho già detto, il Teramo è una squadra forte, giochiamo in casa loro, quindi ci sta di venire a fareggiare qui. Penso che giocare una partita del genere, un derby del genere, con lo stadio quasi tutto esaurito, penso sia una grande emozione, sia da parte nostra che da parte loro, penso che il tifo ha dato quella spinta in più per arrivare fino alla fine. Per il momento guardiamo anche le altre squadre, ma come ho detto più volte, noi dobbiamo pensare a noi. Sicuramente siamo le due squadre più attrezzate per arrivare fino alla fine. Sì, sicuramente non solo questa sfida, ma anche le partite precedenti avevamo alcune defezioni, però come ho già detto abbiamo una rosa lunga, quindi tutti sono sullo stesso piano, quindi diciamo che siamo riusciti a gestirla bene.